In un'aula consigliare gremita il sindaco di Pordenone ha presentato il libro istituzionale Pordenone una città, edito dal comune di Pordenone. Si tratta di una significativa iniziativa editoriale realizzata negli ultimi due anni, che contiene una rivisitazione ed un aggiornamento dei fatti e degli avvenimenti succedutesi negli ultimi vent'anni in città, prendendo spunto da un'analoga iniziativa edita nei primi anni 90. Il sindaco di Pordenone Sergio Bolzonello. Questo diventerà il libro istituzionale di questa nostra città, è frutto di due anni di lavoro affidato all'Accademia San Marco e curato dal professor Goi. Un libro non per celebrarci, come dicevo, ma un libro per conoscerci. Un libro dove non abbiamo nascosto la polvere che c'è sotto un tappeto, ma abbiamo anche messo in vista le contraddizioni di questa città. Quello che però io voglio sottolineare è che abbiamo sempre guardato con fiducia al futuro e continueremo a farlo, perché dobbiamo guardare alla città come radice, ma dobbiamo guardare anche alla città come speranza. La città è una speranza per tutti i cittadini e come tale va affrontata e valetta. Una speranza perché tutti riescono ad avere la possibilità di vivere al meglio. Una città con le porte spalancate, aperta al futuro, ma anche aperta all'accoglienza, aperta all'integrazione, portando a frutto tutte le esperienze, come è stato sempre nel suo passato, di varie componenti, di varie genti, di varie culture, che rendono questa città davvero attraente e diciamo pure unica per la sua vivacità in questo parte.